Ciao, benvenuti a tutti, a quelli che ci guardano in streaming e soprattutto a voi che finalmente siete qua, siete presenti. Benvenuti ai nostri speaker e benvenuti a tutti quelli che ci hanno pensato che non hanno potuto essere qui perché abbiamo appunto uno spazio per ora ancora in una situazione molto safe e quindi con un numero abbastanza limitato di posti disponibili. Siamo Creative Mornings, siamo super felice, sono molto emozionata, finalmente dopo due anni di riuscire a avere il mio primo talk di Creative Mornings dal vivo. Il tema di questo mese è design e quindi non potevamo trovare un posto migliore che tanto di design per ospitarci. Il tema è stato scelto dalla community di Troarivie, ringraziamo anche Matteo Di Po per la foto, e illustrato da l'illustratore Olivier Charland, che potete andare a vedere ovviamente su Instagram. Ringraziamo innanzitutto i nostri sponsor internazionali, quindi MailChimp che è il sponsor di Creative Mornings da ben 12 anni, grazie alla loro collaborazione e anche a Skillshare che da un po' di tempo è l'altro grande partner e sponsor di Creative Mornings a livello internazionale e permette sia ai team di professionisti e freelance, sia alle persone che vogliono aumentare la propria formazione, di godere di una serie di servizi online. Passiamo invece finalmente a quelli che sono i nostri sponsor locali, quindi più di più su Office, che è un servizio di di noleggio a lungo termine di biciclette, trovate tra l'altro poi qui tutti i materiali informativi, sapete anche che per la nostra community c'è un piccolo sconto, una serie di facilitazioni che il nostro sponsor ci ha offerto. Ringraziamo poi soprattutto Tegity, Part of Entity Data and Design Network che ci ospita e ci ospiterà per alcuni nei prossimi incontri. Tegity è un network globale che si occupa appunto di design con un'attenzione anche alla diversità, all'innovazione e a cercare di avere un impatto positivo sull'umanità come su bellissimo coricino e ha una serie di sedi nel mondo, questa è la prima in cui iniziamo a fare Creative Mornings e chissà che poi anche in altre sedi questa cosa possa succedere. Ovviamente parliamo di design di altissimo livello, quindi anche con una serie di riconoscimenti a livello internazionale, grazie di averci ospitato e di aiutarci sia nell'organizzazione sia appunto nella fornire questo spazio bellissimo. I presenti potranno vedere non solo la struttura interna ma anche il bellissimo panorama che si può vedere dall'undicesimo piano di questo edificio che è stato peraltro appunto pensato e disegnato meravigliosamente da dentro e da fuori, quindi grazie. Infine un po' il cuore di Creative Mornings è sempre farsi la colazione insieme, quindi ringraziamo la pastiglia Cuciniello che ci ha fornito oggi tutto quello che ci serviva per fare colazione insieme. Creative Mornings è una comunità internazionale, non sto ad approfondire, trovate tutte le informazioni che volete sul nostro sito, ringrazio anche tutto il nostro team, il nostro manifesto lo potete trovare online in tutti i nostri social, un'informazione per tutti, anzi un elemento fondamentale per tutti, siete tutti i benvenuti oggi più che tutte le altre volte ancora. Quindi grazie, grazie di essere qui. Passo la parola ai nostri speaker, abbiamo Marco Fostati e Andrea Bascià che sono qui con noi, che si occupano di design in maniera diversa, Marco ha un'esperienza quasi benitennale del suo design e dello strategy design, invece Andrea è più focalizzato sul visual design con un focus sulla luxury. Vi lascio la parola. Grazie, grazie Mary. Buongiorno a tutti. Questa è la nostra biografia, quindi non ce l'hai perdere. Partiamo subito sul discorso sul clou della presentazione. Allora, oggi parleremo di fluidità e quello che è successo negli ultimi anni, ovvero siamo partati da momento di ego, momento di eco. Allora, fluidità, per capire la fluidità facciamo un attimo un passo indietro. Quindi il design come l'abbiamo conosciuto? Fino a pochi anni fa pensavamo che questi eroi del mondo del design, che hanno fatto la storia del design, chiaramente in questo caso italiano, ma non solo, pensavano al design come appunto il design industriale e dicevano che un'industria del design doveva soprattutto lavorare in team, fare progetti, cioè fare cose vere, non cose che non servissero e dovevano produrre qualcosa che fosse utile, in particolare a livello di massa. Quindi stiamo parlando chiaramente dell'indante al design. Si contraponevano ovviamente a tutto quello che veniva prima, ovvero l'artigianato. Poi il design si è un po' complicato nel frattempo, quindi abbiamo cominciato a parlare di human-centered design. Quindi abbiamo incominciato a questo nuovo illuminismo in cui la persona veniva messa al centro e abbiamo parlato di veri bisogni che avevano gli utenti, che hanno gli utenti, cioè in realtà ne parliamo ancora nel passato perché in realtà è qualcosa che è successo qualche anno fa, ma stiamo ancora parlando di questo tipo di approccio. Però il sistema basato sul human-centered design è un sistema che si va a collocare in un periodo storico ed economico basato appunto su quello che è il capitalismo, come si può dire, no? Basato sulla competizione, in partito dal luogo, e su un modello che conosciamo molto bene, ovvero la crescita continua. Questo modello basato sulla crescita continua, in realtà si sta trasformando in alcuni anni. Abbiamo capito che il human-centered design non è più sufficiente per definire quello che è il design così come dovremmo pensarlo. Si sta un po' allargando al nostro tipo di cultura, al mondo del design. Quindi non si basa più sulla competizione, ma si basa sulla collaborazione e la cooperazione. Quindi abbiamo in cominciato a parlare di design come line-centered design. Che cos'è questo tipo di nuovo cultura? In sostanza si basa sempre sui bisogni del nostro utente finale, del consumatore. Però l'immagine che andiamo davanti è molto più ampia, perché dobbiamo pensare a il prodotto o al servizio come qualcosa che non solo vada a soddisfare le esigenze delle persone, ma deve soddisfare anche le esigenze di quello che è l'ambiente in cui le persone si muovono, ovvero il nostro pianeta. Quindi dobbiamo capire intanzitutto qual è l'impatto che il nostro prodotto o servizio deve avere. Quindi stiamo traslando il nostro punto di vista non soltanto su un singolo soggetto, ma su una pluralità. Chiaramente pluralità vuol dire fare design per tutti, ma vuol dire anche capire se possiamo permetterci questo design. I nostri eroi del passato dicevano che dobbiamo produrre progetti di massa per tutti, quindi una democrazia della produzione. Oggi questa democrazia in parte è stata conquistata, magari soltanto in alcune parti del mondo, ma dobbiamo pensare anche che cosa vuol dire, qual è l'impatto che determina questa democrazia. Quindi abbiamo introdotto un nuovo concetto, un nuovo concetto di inclusività. Non semplicemente che tutte le persone devono essere messe, diciamo, in possibilità di poter acquistare o nutrire i servizi, ma anche l'inclusività nel senso di sostenibilità. Molto spesso abbiamo definito i prodotti, servizi, design parlato semplicemente sulla necessità. Questo non è più valido, cioè non è più sufficiente parlare di necessità. Dobbiamo incominciare a parlare di qualcosa che è necessariamente sostenibile. fare prodotti con cattivi materiali che hanno delle brutte finalità e semplicemente sono inutili se non per soddisfare un'esigenza. Cioè se qualcuno li può comprare, allora li devo produrre. Ok, questa cosa non deve più esistere, perché se qualcuno li può comprare, poi li devo produrre, cosa vuol dire alla morte di questo prodotto? Cosa succede? Quindi dobbiamo pensare in maniera un po' più, una terra più santa, e soprattutto nel tempo. Dobbiamo pensare molto più simbiotici con quello che è la natura, con quello che è l'ambiente in cui viviamo. C'è questo bellissimo esempio che ci piace riportare, ovvero che in Giappone quando vai in un grocery, in un supermercato che sono a più o meno 24 ore al giorno, trovi tutto impacchettato. Cioè ogni singolo oggetto viene impacchettato in una busta di pratica, impichettato con un tag, che è molto bello da vedersi dal punto di vista estetico. Ci sono queste banane che sono impacchettate davvero una, però ci siamo dimenticati che in realtà la natura ha già prodotto un packaging perfetto per la banana. E noi semplicemente la stiamo ripacchettando l'altra volta. Questa cosa chiaramente non ha più anche un senso. Perché? Perché stiamo andando a fare una forzatura di design, laddove design in realtà non serve. Ci sono tante soluzioni che possono essere prese e riutilizzate. Per esempio, nella parte sotto vediamo la stessa cosa, però con un packaging naturale. Che cosa vuol dire a questo punto? Abbiamo pensato a red stampa e soprattutto abbiamo pensato con una mente che va verso il futuro, che non si ferma semplicemente a ho prodotto un oggetto e poi l'utilizzo, ma che cosa succede questo oggetto? Qual è la sua vita? Quando muore questo oggetto? Può rinascere in qualche modo oppure vanno a scompare? Questa cosa in realtà la conosciamo già da parecchio tempo perché un signore, molto famoso, aveva detto che il vuot design è molto friendly con l'ambiente in cui viviamo. Quindi diciamo che non è proprio nato questo design come un altro pubblico che non conoscevamo. Chiaramente noi non cambieremo il mondo, non lo salveremo, però cercheremo almeno di renderlo meno peggio di quello che è. Questa potrebbe essere la nostra vocazione di tutti. E quindi parliamo di gruità come sostenibilità. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Diciamo proseguendo il discorso che ha appena fatto Andrea, la mia parte è centrata su un'esperienza mia personale. Io mi occupo di prodotto e sono entrati in un team di lavoro in cui questi concetti di sostenibilità, di studio dei materiali, diciamo ha raggiunto un livello estremamente interessante. Quello che mi interessa proporre è come può cambiare il ruolo del designer oggi, non tanto spiegare come si fa un prodotto sostenibile. È una questione di responsabilità nostra ed è un problema sociale ed economico. Allora, il problema sociale, diciamo, l'ho spiegato molto bene Andrea, è un problema anche economico. Purtroppo oggi le aziende, il discorso della sostenibilità, lo vedono sempre come un limite per i costi che ha, ma è un approccio che comunque andrà a finire a breve, nel senso comunque siamo un po' stretti ad approcciare questo aspetto. Tanti prodotti esistono già, i batteri di plastiche riciclate, plastiche bio, però è ancora una cosa troppo ridotta. Dobbiamo parlare sempre di esterni, comunque siamo designer, siamo prodotti funzionali, economici e tutto il resto, però il concetto di eticità deve comunque pervadere ogni progetto che dura in poi. Già è una cosa che comunque si fa, però dovrà sempre essere più presente. E dobbiamo pensare alla sostenibilità come una risorsa, quindi come un driver, non come un costo. Cioè è sicuramente un costo, ma noi stiamo già pagando un prezzo molto alto in tutta la politica precedente di creazione di prodotti di produzione in massa. Probabilmente adesso è arrivato il tempo di concepire la sostenibilità come un driver per effetti di business. Tornando a Castiglioni, probabilmente lui è stato un antisignano di, facendo alcuni prodotti che prendeva pezzi esistenti, quindi non creava prodotti, cioè creava prodotti nuovi ma utilizzando parti di oggetti esistenti. Tutto sommato era un ottimo approccio iniziale. Allora, per fare la differenza sicuramente bisogna avere una prospettiva di business e calarsi molto in quello che è il discorso legato ai materiali. E questo presuppone il fatto di avere un approccio completamente diverso al progetto. La definizione dei materiali rappresenta una soluzione strategica. Allora, l'esperienza che adesso poi vi presenterò, chiaramente si inserisce in un discorso di circolarità. Oggi si parla di materiali circolari per comunque consentire al prodotto di vivere, finire e rientrare nel processo produttivo, sotto forma, sotto altre forme. L'idea è di non perdere questa forma, quindi di non buttare il prodotto e non sapere cosa fare. Lì è recuperare in qualche modo, non tanto il prodotto stesso, non il materiale. Chiaramente è un compromesso. Perché? Perché comunque i materiali recuperati presuppongono determinati limiti, però hanno tante possibilità di risorse. Se dopo lì avete dei materiali, dopo ve li espongo e capirete perché ci sono anche delle risorse. In università, nelle scuole di design, si ha sempre detto di come in realtà il ruolo del design sia concepito come una figura multidisciplinare, ma non tanto perché siamo tuttologi, ma perché comunque siamo in grado di mettere assieme diverse figure, quelle umanistiche, quelle tecnologiche. che siamo in grado di comprendere e mettere assieme diversi tipi di linguaggio. Ed è in questo momento che la multidisciplinarità, secondo me, diventa centrale, perché dobbiamo trovare una soluzione in modo tale che anche a livello di sostenibilità e di nuovi prodotti sia in grado di, diciamo, parlare un nuovo linguaggio e creare anche dei difetti positivi. Quindi sostenibilità non l'abbiamo scelta, cioè non possiamo andare avanti a fare le cose come abbiamo fatto fino a ora. Come esperienza personale, diciamo ormai due anni fa, sono entrati in un team di lavoro legato a un progetto europeo che si chiama Cyber Use, che ha come obiettivo specifico quello di recuperare, cioè trovare modo di recuperare i materiali compositi. è molto focalizzato su questo tema. Possono essere fibra di vetto, può essere carbonio, però materiali compositi, quindi non stiamo parlando di plastica, non stiamo parlando di acqua. È molto focalizzato su questo. Il ruolo del designer, in questo caso, è stato estremamente interessante perché chiaramente non siamo andati a dire all'azienda come fare la formulazione chimica del nuovo materiale, ma siamo andati a aiutare l'azienda a capire quali dovevano essere le definiture di questo materiale, che tipo di prestazione doveva avere, che tipo di possibilità di lavorazione potesse avere. Quindi qualificare i materiali in modo tale che potesse avere effettivamente degli sbocchi produttivi produttivi o anche artigianali in alcune case, che possono poi essere utilizzati per tante soluzioni. L'azienda in questo caso è la Liderasa, l'azienda italiana, che già anni prima aveva creato, aveva fatto un inizio di ricerca e aveva prodotto questo materiale che ha chiamato che ribadente che è quello che vedete sul banco. Dopo due anni di ricerca, siamo arrivati a definire un piccolo brand, che però non vuole essere un brand di prodotto, ma vuole essere un supporto sia al designer che all'azienda per veicolare positivamente questo materiale, aiutarli ad utilizzarlo, aiutarli a mettere sul mercato prodotti che possono essere sostenibili. Questo materiale che nasce dalla vetroresina, a cappello di tutto questo progetto, mi sono dimenticato di dire, in realtà il progetto di vetroresina è legato a fatto, per esempio, delle paleoliche. Cioè, le paleoliche sono fatte di vetroresina, ogni tot anni vanno sostituite, e ci siamo in un momento in cui ci sono tonnellate di vetroresina che non si sa dove buttare, perché il concetto è che fino a poco tempo fa si dovevano buttare, come nei scarti delle varie, per esempio. I direi, quali utilizziamo? Questo è il materiale di partenza, quindi praticamente il piccolo resino è frittata. Attraverso un processo di aggiunta di resine, che poi comunque dovrebbe essere recuperato al 50% una volta di smesso materiale, si è arrivato a definire un composto, fatto di diverse granularità, infatti poi vedete dei pezzi che hanno una texture molto più fine, altri meno, ma questo è evoluto perché è una scelta, proprio una scelta estetica che può essere veicolata. Tenete conto che, per esempio, questi progetti qua sono stati presentati durante l'ultimo salone del mobile, la Super Studio, e siamo arrivati a definire alcuni prodotti. per esempio questi, che sono oggetti per l'area d'urbano, quindi sostituiamo quello che c'è detto. In questo caso, è un processo ancora, cioè, è inedicolato, un modello di disine diverso, nel senso che, questo oggetto tu lo puoi prendere, lo puoi posizionare, dopo x anni lo puoi ritirare, ritritare e ripare uguale. Quindi l'idea era creare anche per la municipalità, un sistema per cui tu riesci a rinnovare sempre il tuo, diciamo, arredo urbano, rimettendo nel circolo sempre lo stesso materiale. Abbiamo creato dei piccoli, diciamo, complementi da arredo. Questo fa parte di uno studio preliminare che abbiamo fatto. I rivestimenti, quindi qui sono degli esempi, queste sono delle foto di prodotti installati. Ha delle altissime caratteristiche, ce ne sono molto più interessanti che non la ceramica, per esempio. E sempre su questo concetto qua abbiamo fatto delle superfici molto grandi, cosa che a volte, per esempio, vanno molto, nell'ambito architetturale, superfici di vestimenti molto grandi, ma sono molto costose, molto fragili, molto difficili da installare, servono delle competenze molto specifiche. Nel nostro caso riusciamo a fare delle lastre molto grandi, mareggiarle molto semplicemente, sono molto resistenti e sono durabili nel tempo. Siamo arrivati a definire anche prodotti come tavoli, cioè sono tutti esercizi per, sono serviti, sono diventati propedeutici a definire tutta una serie di caratteristiche di materiali e renderli usati. fino ad arrivare a casa mia, cioè tutta quella parete nera è un pannello di questo genere qua. Usandolo ci siamo accorti di come in realtà, tante caratteristiche che non avevamo pensato, si sono liberate tutti di tipo, estremamente più resistente e meno sporchevole che tante altre superfici. lo posso usare come una lavagna. Sono feature semplici, però serve per capire come in realtà tutto questo lavoro di ricerca è servito per finalizzare l'uso di un materiale. Quindi il supporto tecnico di un'azienda che ci ha messo tutte le competenze, diciamo chimiche, perché comunque va studiato ed elaborato, ma la parte di design è stata determinante per appunto finalizzarlo verso un uso concreto. Grazie, grazie agli estivi e grazie a voi per essere qui. Io ho una domanda in realtà, per tutti e due, e la domanda è questa. Soprattutto qui alla fine è stato molto interessante vedere come dicevi, giustamente c'è stata una cosa di progettazione, poi l'ho usato nella mia vita e ho scoperto delle altre cose. Nella riflessione che Creative Commons propone sul tema design, loro all'inizio parlano proprio del fatto che siamo in un mondo immerso nelle intenzioni. Quindi a me ha suonato molto immaginare che il design sia una sorta di incontro tra quelle che possono essere le intenzioni delle persone e quello che poi gli risponde il mondo. Per cui anche il vostro titolo, che era da ego a eco, in realtà questo passaggio può anche non essere un passaggio di smettiamo l'ego nel senso dell'identità o dell'intenzione personale, ma anche teniamo questo e facciamolo però incontrare in maniera produttiva con eco, quindi con quello che ci risponde intorno. Quindi la mia domanda è quali sono le intenzioni dei designer secondo voi adesso? Quale sarà la domanda che i designer stanno facendo al mondo? Per me questa domanda è proposta fatta quella che volete, che giustamente a cui avete cercato di rispondere. Quale sarà la prossima domanda? Beh, ci sarà. Non so se il designer in questo caso deve fare per forza una domanda. Secondo me il designer adesso deve entrare in un'ottica completamente diversa. Negli ultimi anni abbiamo visto veramente tantissimi prodotti, cioè devono avere un'ottica diversa, soprattutto se parliamo di questi temi. Cioè non possiamo pensare di fare l'oggetto fino a se stesso. Cioè è un argomento che ci sarà, funzionerà ancora, ma non possiamo fare solo così. Cioè negli ultimi anni abbiamo visto tanti miliardi di prodotti di tutti i tipi e molto spesso non focalizzati su delle reali esigenze o delle reali... Ma non solo esigenze personali ma anche dell'azienda. Comunque lavoriamo per delle aziende ma creare un business per l'azienda. Cioè il designer deve dare un valore raggiunto. E anche in questo caso lo deve dare. Ed è un valore raggiunto imprescindibile. Quindi non so se il designer avrà delle domande da fare. Sicuramente dovrà farse avere delle domande a se stesso e dovrà sicuramente mettersi in gioco. Il nostro picco, perché comunque anche se è un progetto abbastanza grande, però l'attività è tutto sommato piccola rispetto all'ambiente che si circonda. Però è estremamente interessante. Cioè si può fare un sacco di lavoro, si deve fare... che si trovano in un sacco di soluzioni interessanti. Tendiamo conto che questo materiale qua che vedete tutto sommato ha un aspetto anche abbastanza grezzo. ha avuto un'estremamente alta richiesta anche dal trend del molto grande che sono rimasti curiosi da questo. Quindi secondo me è un processo irreversibile. André? Mi faccio un salto un po' indietro. Dalle delle risposte assolutamente vado a cercare quali sono le cause. Secondo me il mio amico mi ha sempre detto c'è troppo design in giro. Effettivamente è vero, c'è veramente troppo design. E lo vedi qualunque giorno o in qualunque momento. E poi soprattutto il design o i designer arrivano un po' tardi rispetto a quello che diciamo altri hanno già detto prima. E poi quando ha disegnato un modulore ha detto la persona, e poi diceva l'uomo e dice la persona, sta al centro. Ok. Noi con il user center design ci siamo arrivati cinquant'anni dopo probabilmente, no? A parlare di questa cosa. Si parla di ecologia e di sostenibilità da sessant'anni e soltanto oggi andiamo a teorizzare il line center design. Quindi cosa vuol dire? I designer in realtà non ascoltano. E si credono sempre un po' più avanti degli altri. Magari invece dovrebbero fare un passo indietro e capire come funzionare le cose. Cosa gli sta dicendo già la società, l'economia e il mondo. Questo perché? Perché probabilmente abbiamo sempre assecondato quello che è il valore economico. Per fortuna questa cosa rimarrà sicuramente, ma si sta un po' addosendo. Quindi probabilmente cominceremo ad ascoltare Vitruvio e Colbusier che mettevano l'essere umano al centro e quindi cercheremo anche di contestualizzarlo nel suo ambiente. Bene, vi ringrazio di nuovo. Qui ci sono visto che alcuni chiedevano prima che ci sono tutti i nostri riferimenti, quindi i posti in cui potete trovare cosa sta succedendo in Creative Mornings Milano. Ringrazio chi ci sta vedendo in streaming, ringrazio anche tutti voi che siete riusciti a venire in persona, i nostri speaker, i nostri sponsor, le altre persone del team che sono qua dietro le quinte, che non voglio farti vedere. Se volete ovviamente fermarvi per fare qualche domanda ai nostri speaker, per prendere un altro caffè con noi o una brioche o un pasticcino che mi dicono essere qualcosa che vale la pena assaggiare, rimaniamo qui ancora un pochino, altrimenti naturalmente vi aspettiamo dall'evento di novembre, sempre qui, sempre a quest'ora, presumibilmente l'ultimo venerdì di novembre. Grazie a tutti. Grazie.